Il campionato giovanissimi fascia B Elite torna dalla sosta con una bella sorpresa per la Totti Soccer School che trova tre punti importantissimi al Vigor Sporting Center infliggendo il quarto capo stagionale alla formazione di Mr. Scaringella. Gara non spettacolare nel primo tempo, al diciottesimo provano a farsi vedere gli ospiti con Olivetti che lancia in propria vita a Cence che si presenta davanti a Lisciani ma calcia sull'estremo difensore blaugrana. Al venticinquesimo l'opportunità buona capita sui piedi di Pizzulli che però si fa murare mentre dalla parte opposta la Vigor prova a scuodersi con il desto di Cerentano da fuori che termina di molto alto sopra la traversa. Prima di entrare negli spogliatoi il match si sblocca e a farlo è proprio la Totti Soccer School. A Sirai l'1-0 ci pensa Olivetti con una punizione gioiello dalla grande distanza che lascia poco spazio al tuffo di Lusciani. Ripresa decisamente più biface Scaringella prova a cambiare qualcosa avanzando la posizione di Altamura e la mossa dà subito i suoi frutti perché al sesto Brunetti riesce a tenere in vita il possesso sulla linea di fondo consegnando al proprio numero 3 l'assiste buono per timbrare il pari. La Totti però non sembra accusare il corpo e all'undicesimo prova nuovamente a pungere con Covarelli il cui destro è però troppo centrale. Al diciassettesimo altro squillo ospite con la combinazione iniziata dall'attacco di Olivetti che porta al tiro Fosci il cui destro da pochi passi si alza sopra la traversa e poco dopo ci prova anche Rivieci il cui destro si alza non di molto oltre la porta blaugrana. La Vigor si fa invece vedere due giri di lancette più tardi quando Cervara mette la testa sulla punizione di Torsellini sul quale Amatori compie un superintervento. La parata dell'estremo difensore è fondamentale alle luci di quanto accade poco dopo perché di fatto sul ribaltamento di campo il mancino di Covarelli è chirurgico e la Totti Soccer School rimette la testa in avanti. I ragazzi di Scaringella provano a scuotersi nel finale ma a parte una bella punizione di Torsellini non accade più nulla fino al tripice fischio che consegna i tre punti alla Totti Soccer School che sale dunque a quota 19 in classifica ed è una bella accelerata in chiave salvezza.